Rita Borsellino alla presidenza della regione siciliana e Claudio Fava come suo vice potrebbe essere questa la soluzione in grado di superare l'ampas, quella a cui stanno lavorando i partiti della coalizione che lo sostengono, ovvero i DV, SEL, Federazione della Sinistra e Verdi. Claudio Fava ha ritirato infatti la sua candidatura all'Ars dopo che erano emersi i dubbi da parte del Viminale. Il ministro, Anna Maria Cancellieri, aveva evidenziato infatti ieri pomeriggio che sulla candidatura di Fava esisterebbe un vizio di forma, un ritardo di cinque giorni nel cambio della residenza che per legge va fatto almeno 45 giorni prima delle elezioni. Fava, sino al 14 settembre, era residente a Roma e avrebbe chiesto il cambio solo il 18 settembre. Cinque giorni dunque che hanno messo repentaglio la corsa al Palazzo dei Normanni da parte di Claudio Fava, dalla riunione a Palermo tra i segretari regionali di IDV, di Fondazione Comunista, SEL, Verdi e Federazione della Sinistra, è emersa la soluzione che sembrerebbe in grado di soddisfare tutti, ovvero la corsa in tandem Fava-Borsellino, anche se quest'ultima non ha ancora confermato la sua disponibilità.